si litiga per il candidato sindaco, invece sembrerebbe... Con la scomparsa di Gian Donato Morra all'età di 64 anni viene a mancare un personaggio di grandissimo spessore, umano e politico. Morra si era ammalato lo scorso anno ma nonostante il suo stato di salute è sempre stato presente per tutti. Nativo di Cerignola, per lui Teramo ha rappresentato la seconda casa e qui ha trovato la sua famiglia. Amato la sua città e questa regione, tanto come di più, non avrebbe potuto fare nessun terramano. Iscritto dalla prima ora nelle formazioni giovanili del Movimento Sociale Italiano con la formazione di destra, ha trascorso tutta la vita pronto a seguire gli ideali di area, vivendoli con grande fervore e passione, aperto sempre al confronto dentro e fuori dal partito, anticipatori di quella trasformazione che portò alla nascita prima di Alleanza Nazionale e poi di Fratelli d'Italia, molto apprezzato dalla stessa Premier Giorgia Meloni con cui aveva un contatto frequente. Morra aveva ricoperto anche il ruolo di Assessore regionale ai trasporti nella giunta di Gianni Chiodi, oltre che quella di Consigliere Assessore Comunale, Commissario del Parco del Gran Sassolaga, Consigliere del Ruzzo e di recente Difensore Civico Regionale. E unanime il cordoglio non solo del mondo politico terramano e abruzzese per la scomparsa di Giandonato Morra. Va via un amico, un amico caro, un politico vero, unico, un professionista esemplare, un uomo straordinario. Giandonato appartiene alla storia politica e amministrativa della nostra città. Terramo l'ha amato tantissimo e continuerà ad amarlo nel suo ricordo. Una figura di un uomo politico che ha fatto del rispetto, dell'onestà, della lealtà anche degli avversari. Insomma io porterò con me sempre nel cuore la campagna elettorale che abbiamo affrontato non l'uno contro l'altro, ma insieme, da avversari, rispettandoci, guardando sempre al bene della nostra Terramo. E da lui non si poteva e non si può che imparare. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.30 in Cattedrale a Terramo.